Ma tu non ti sei scocciata di questi incarichi? Cioè, dico, siamo poliziotti o guardia giugati? Federico, però, i turni girano. Lo dice la parola stessa, non possiamo stare sempre in prima linea. Senti, cambiamo discorso, ci parlavi tutto, fratello. Non abbiamo niente da dirci. Poi a me sembra che capitano solo a noi certi incarichi da badatta, eh. Scusami, ma l'altra settimana non siamo finiti in mezzo a un omicidio. E la settimana ancora prima non ci è capitata una sparatoria che un altro po' che ci lasciava la pelle. Con i saluti di Frank Randine. Frank Randine. Tu, buona! Non ho finito, possiamo andare? Andiamo. Frank Randine. Ma chi ne inventa sti nomi?